sai di cosa sono veramente veramente contento di che cosa c'è sono adesso davvero mi fa stare più tranquillo sono felice appunto veramente contento che abbiamo preso sta ginocchiera mettiamola là col carrellino magari fanno amicizia hanno un sacco di cose da dirsi no domani la mettiamo sì domani sì ma adesso no no adesso no perché perché ma l'ho messa stamattina o no ce l'avevi fatta mattina quant'è che ce l'hai? l'ugina usa bugia difensiva perché quando rido mi viene la tosse? perché quando fa freddo esci senza giacca voglio quel robo lì sotto rosa che metto spalla messo l'ho messo